Il numero dei parlamentari può essere ridotto soltanto se si pone fine al bicameralismo perfetto, differenziando le funzioni tra le due camere e assegnando al Senato essenzialmente la funzione di camera di controllo. Presentato a Napoli presso lo studio del notaio Dino Falconio, il manifesto per il No, illustrato dal Comitato Napoletano per il No al referendum populista sul taglio della rappresentanza democratica. A parlarci delle iniziative della campagna referendaria, il presidente del Comitato Dino Falconio. È una riforma che porta con sé uno spirito antiparlamentare e uno spirito antidemocratico, dove la democrazia rappresentativa viene calpestata e si riducono spazi di rappresentanza del popolo. Ridurre i parlamentari fa risparmiare agli italiani il costo di un caffè all'anno. Gennaro Marasca e l'avvocato Gazzara spiegano la necessità di dire no. In una situazione in cui tutte e due le camere fanno lo stesso mestiere, cioè è un bicameralismo perfetto, così viene definito, non si possono ridurre i parlamentari. Se invece noi creiamo una camera che dà la fiducia, approva le leggi, eccetera, è una camera delle regioni, allora è possibile anche procedere a una riduzione. Questa riforma in realtà peggiora molto la situazione, perché riducendo il numero dei parlamentari fa sì che saranno sempre più i nominati, i fedelissimi, dei vari segretari di partito a entrare in Parlamento. Quindi piuttosto che rappresentare le esigenze dei territori che le eleggono, rappresentare quelle che sono le esigenze di quelli che in quel momento sono i capopartito, che gli consentono di essere eletti.